Dalla lettera di San Paolo a Posto dei Galati Fratelli, se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, frazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose, non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù, hanno crucifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito, Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. E' come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore disse, «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste, invece, erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, chiamate i primi posti nelle sinagoge e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse, «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose, «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito».